buongiorno oggi video di recensione di una sega una sega a filo che sarebbe questa è una sega a filo che si può trovare in qualsiasi cinese a pochi euro circa due ore e cinquanta barra tre euro io l'ho già usata fa è molto sottile è tipo fatta a tanti nodini messa assieme se si può se si vede dalla videocamera con due anelli all'estremità uno sono anelli classici quelli dei per mettere le chiavi posta chiave 20 di quelli resistenti questa è la piombatura e tutto questo è quello che è il filo circa 50 centimetri di lunghezza a oggi non posso dire niente per cui la cifra pure spesa perché taglia abbastanza bene l'unica cosa che ci vuole molta forza nel senso non è proprio nel farlo ma nel muoverle perché ogni tanto si blocca pure come tra poco si vedrà nel video che andrò a fare questo è un primo pezzo tagliato da me al netto iniziato da un lato e finito dall'altro e l'ha tagliato perfettamente come ho già detto è faticoso e tra poco si lo vedrete ripeto un video eventualmente potrei anche utilizzare questo che che un seghetto della opinel che poi farò una recensione solo per questo che ce l'ho pure questo da tantissimi anni ancora prima di questo filo seghettato per tagliare legno e mi trovo benissimo ovviamente non voglio utilizzare questo ma voglio utilizzare questo qua comunque buona visione di video e vediamo pure in quanto tempo lo taglio ovviamente ci saranno sicuramente delle soste perché ripeto è faticoso farlo però si può fare buona visione vedete già come si è bloccata queste queste questi rivestimenti che vedete neri li ho messi io perché se no quando si compra esce solo con l'anello anello portachiave come dicevo poco anzi dopo pochi minuti ti fai male le dita perché è ferro contro la pelle con questi già è molto meglio si lavora sicuramente meglio però vedete si blocca facilmente il suo movimento sarebbe questo ovviamente si taglia deve penetrare però si blocca facilmente bisogna lavorarci proprio si braccia però la scorrevolezza ce l'ha quando quando non si blocca scorre ovviamente fa una strida ovviamente fa un calore nonostante tutto ripeto come già ho detto prima io ce l'ho un po da un po di tempo non l'ho usato molto però funziona 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 in casi di necessità ovviamente in casi di necessità che uno si trova magari con la senza il seghetto o col seghetto che si rompe la lama o che non taglia quello che è uno sa di avere questo filo seghetto che vi può sicuramente aiutare certo non è come una motosega ovviamente non è come un seghetto stesso come quello che vi ho fatto vedere prima però come facilità di utilizzo parliamo però con la fatica che si fa con il braccio e con un po di pazienza si riesce tranquillamente a tagliarlo si riesce a fare partire così è meglio perché lo posso tirare però come già vi sto facendo vedere si fa un po di fatica le braccio ovviamente a lungo andare si stancano questo legno non è tra i duri perché se no ci sarebbe ancora di più da faticare è un legno di nespolo però è comunque duro ovviamente questo è già il secondo taglio che sto facendo come avete visto già il primo taglio è stato quel pezzo lì di legno secondo me taglia bene così ad angolo ad angolo secondo me la versione migliore però è anche da dire che ora sta scendendo vedete fare un angolo ho sbagliato qui dovrei farlo così vediamo se riesco a riprendere vedete sta bloccando ora allora se vi trovate in montagna che fa freddo sicuramente con questo movimento e con questo con questa sega a filo a laccio se sei chettata sicuramente vi prendono i riscaldate non si sentirete più freddo io fate conto che sto sudando parlando con rispetto quindi se eventualmente qualcuno è interessato a comprarlo già sa com'è fatto come lavora la fatica che si deve fare giustamente per farlo tagliare vediamo un po' così vediamo un po' così vedete ho quasi fatto tutto il giro incomincio a muoversi ma io non lo voglio spezzare lo voglio tagliare di netto come ho fatto con questo serve solo un po' di buona come dice volontà e ancora un po' di fatica però si riesce nel proprio intento se uno vuole non manca assai non manca assai di seghetto a filo di seghetto a filo e quindi ho pensato di farlo io per aiutare eventualmente a chi è interessato ad avere qualcosa del genere non vorrei non vorrei mi fanno ste Grazie.